Finalmente anche Katia Ricciarelli ci regala un momento divertente nella casa del grande fratello Vip. Ieri notte, in piena notte intorno alle 4 del mattino, Katia finge di avere una crisi di nervi per fare uno scherzo a Eva Grimaldi e Valeria Marini. Come vedremo dal video in arrivo, lo scherzo di Katia è riuscito facendo spaventare le Vippone, soprattutto Valeria. Chiuffi, dove sei? Qua, 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 dove? Che succede? Katia! Chiuffi, dove è giù? Fala dormire, vieni da letto, piccolo, se non penso che gli halla. Chiuffi, ma cosa succede? Senti qua, lo chiamiamo adesso. Sì, lo chiamiamo Katia, dimmi qua. Katia, senti qua. Katia! Oddio mio. Chiamiamo qualcuno. Katia! Non bisogna essere qui. Tutti via, tutti via, mi dovi giocare. Ecco, come tutti via. Mi devo ci prendere. Katia, corri Katia un attimo, stai tranquillo. Dattela un bicchiere d'acqua. Andiamo a prendere. Ragazzi, non lo dite, non lo dite. Non lo dite, non lo dite. Ragazzi, non lo dite. Non lo dite, non lo dite. Vabbè, vabbè. 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 Vabbè, vabbè.